Ammonta complessivamente ad 1 milione e 200 mila euro il contributo messo a disposizione dalla regione siciliana per enti locali e privati che intendono organizzare eventi, mostre e fiere per la valorizzazione delle attività produttive. Due agli avvisi pubblicati, il primo è rivolto ad enti privati e imprese che operano nei settori agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare con particolare riferimento ai prodotti ittici trasformati ma anche moda e settore delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione per realizzare eventi promozionali, fiere e mostre mercato. Possono fare domanda di contributo per un importo non superiore a 30 mila euro a progetto 40 mila euro in caso di iniziative giunte al quarto anno di realizzazione, enti privati e imprese del settore della comunicazione e marketing rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro e distretti produttivi legalmente riconosciuti che presentino il progetto di un'iniziativa da realizzare entro l'anno. Il Dipartimento regionale attività produttiva ha messo a disposizione 900 mila euro in tutto per il piano promozionale 2022. Le domande con innesse proposte progettuali devono essere presentate entro il 12 agosto. L'altro bando è aperto agli enti locali con disponibilità finanziaria complessiva di 300 mila euro che vogliono promuovere iniziative per valorizzare prodotti e manufatti siciliani che rientrano nei settori agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, settore lapide e sistema casa, moda e fashion. Possono fare domanda per ottenere l'ausilio finanziario nella misura di 20 mila euro massimo i comuni siciliani, anche in forma associata, che presentino un progetto su eventi di promozione, partecipazione a fiere, mostre mercato e missioni commerciali. Obiettivo finale perseguito dall'assessorato regionale attività produttiva è l'incremento della notorietà dei prodotti siciliani per favorire gli scambi commerciali con particolare riferimento a quelli di prossimità. Le richieste da parte dei comuni dovranno pervenire al Dipartimento Attività Produttive con allegati progetti e piano finanziario entro il 21 agosto.